Allora, partiamo da un'icona, visto che sono qui sul desktop e ho già un'icona. Noi abbiamo imparato, nelle lezioni precedenti, che se faccio un clic su un'icona, clic, e poi mi sposto, quell'icona resta selezionata. Il cestino, in questo momento, è selezionato. Vuol dire che il computer ha focalizzato la sua attenzione sul cestino. Sul mio desktop ho due oggetti, cestino e quest'altra icona strana qui, ma il computer pone attenzione al cestino. Tant'è che se io premo invio sulla mia tastiera, quindi se do un comando di conferma, lui sa che quel comando di conferma è relativo al cestino. Provo, premo invio sulla mia tastiera, ed ecco che il cestino si è aperto. Qui c'è cestino, quindi il cestino si è aperto.